Abouzar Farhodi, chi sono i due protagonisti di Wojtzec Maschine? I think in this sort of performance, you want to translate to Italian? In this sort of performance, yes, we know inside of actors and actress, we know who we are, but Io penso che in questo tipo di performance, sì, noi come attore e attrice sappiamo chi siamo, però Inside we know, but if we want to know who are they, every spectator, every audience, but the spectator is better than audience this world, They should, in his mind or her mind, they should make who are they Noi, dentro di noi sappiamo chi sono loro, però ogni spettatore dovrebbe riuscire a capire di per sé, per se stesso, chi sono questi due. Noi lo sappiamo, ma la decisione di chi sono questi due non è la nostra. Yes, it's on every spectator. La decisione sta a ogni spettatore. Quindi lo spettacolo, la performance viene completata nella mente di ciascun spettatore. The last montage, the last edit, is in mind of a spectator. La parte finale del montaggio è nella mente di ogni spettatore. Nasrin Oshenovar, che cosa c'è del Wojtzeck di Bückner in questo spettacolo? For me, as an actress, playing this role, so we wrote Wojtzeck, the play, several times together, we watched movies and etc. But I have my opinion, I have my point of view of this woman in this situation. Someone in the audience can watch and have a different opinion and different point of view and different feeling, the whole other picture. Noi conosciamo il Wojtzeck di Bückner, abbiamo visto cose, spettacoli, film e però io ho un mio punto di vista su chi è questa donna, però ognuno può avere un suo punto di vista. ognuno può avere un proprio punto di vista, una propria idea e un proprio sentimento, una propria sensazione di chi è questa donna. Ma per me, Nasrin, me attrice, questa donna è una donna di questa società, che direttamente... Ma per me, Nasrin, me a 기� за una donna Wolff 것으로 è comunque. Ma per me, Nasrin, me a signo di uno dei tuoi della Hardia. такой è una donna che quanto la ver listena. Ciao! Grazie a tutti